Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto mi scuso per l'ambientazione e per l'illuminazione ma purtroppo non sono a casa mia e bisogna arrangiarsi con quello che si trova. Oggi volevo parlarvi della community Pokémon. Fabio e Luke che sono stati in vacanza con me potranno confermarvi che questo è un grillo che mi passa per la testa da una cosa come 3-4 giorni. Intendo che è un po' di tempo che mi sto interessando al futuro della community Pokémon e mi sto accorgendo di come questa stia morendo. Oggi però volevo cogliere la palla al balzo parlandovi principalmente del video di Blast che ha caricato sul suo canale nel quale critica aspramente la community Pokémon riguardo alla presunta facilità delle serie che si portano all'interno dei canali più grandi. Vedasi Federic Edlards per intenderci. I bersagli del video sono principalmente loro. Partiamo dal fatto che in linea di massima la community Pokémon è morta. E per morte intendo dire che penso che sopra i 1000 iscritti ci saranno 5-6 youtuber attivi. E con una qualità decente. E continui. Sul canale ovviamente. Vero Mr. Electric. Grande Cree. Comunque bando alle ciance di cosa parlavo questo video. Come ho detto prima parlavo della facilità delle serie che portano gli youtuber più big, Vedasi in particolare, Egglock, andando a esprimere il dissenso riguardo ai contenuti che potrebbero portare e che invece non portano. Nel video per intendersi si fa l'esempio di MMO. E tra l'altro vi lascio tutte le fonti che trarrò per questo video in descrizione così che anche voi possiate farvi una vostra opinione. Non me ne voglio ovviamente Blast che io non conoscevo prima di questo video, che mi è stato linkato su Telegram e che quindi non ho assolutamente alcun motivo per andare contro a lui. Ma ho trovato la sua critica di una superficialità e di una banalità disarmante. Io penso innanzitutto, e saranno poi altri colleghi youtuber magari a smentirmi, che quando hai un canale youtube esiste una cosa paragonabile al rischio di impresa di un'azienda qualunque. Cioè se tu porti una serie, prima di portare la serie ti chiedi in quante persone la vedranno, quanto successo potrà avere e quanta soddisfazione potrai trarre tu nel fare quella serie. E se in passato questa sensazione di rischio di impresa l'ho provata io che prendevo 50 euro al mese, non oso immaginare cosa potrebbe succedere a chi magari invece fa Pokémon per lavoro. La critica secondo me è superficiale perché ci si sta rivolgendo a una categoria di youtuber che forniscono un altro tipo di intrattenimento, non l'intrattenimento di Pokémon MO e quindi un gameplay difficile. Se Lars, Fede, Otuberanz e tutti quelli che sono stati citati nei video portassero quel tipo di contenuto che viene proposto nel video, io credo personalmente che si ritroverebbero in una situazione davvero svantaggiosa. Perché non è il tipo di video che fanno, non è il tipo di video a cui è avverso il loro pubblico e conseguentemente quei video verranno poco visti. Lars ad esempio ha portato sul suo canale un po' di tempo fa quando è uscito il gioco Detective Pikachu. Penso sinceramente che quello per lui sia stato un rischio di impresa e tra l'altro un rischio di impresa che mi correga Dani, ma non penso sia andato molto bene in termini di visual e di like, poi ognuno ha i suoi standard per carità. Ma almeno da fuori risulta così. Federic ha portato Pokémon Quest sul canale, anche quello era un rischio di impresa perché era un gioco non spin-off, due volte spin-off, eppure quello gli è andato sorprendentemente meglio delle aspettative che perlomeno io avevo. Fede si è messo anche a fare il Pokémon News, eppure il Pokémon News non è andato così bene perché era una serie che secondo me era diversa rispetto al pubblico che andava a vedere i suoi video, o meglio, alla maggioranza del pubblico che andava a vedere i suoi video. Eppure lui è deciso di portarla perché si è assunto, a mio parere, un rischio. Tra l'altro serie bellissima che ingiustamente ha meno visual degli altri suoi video, chiariamoci. Quello che voglio dire è che criticare senza contestualizzare la situazione è la cosa più sbagliata che esista. Non esiste criticare un format senza andare a vedere il perché si porta a quel format, chi lo sta portando e quali sono magari i fini. Non prendiamoci per il culo, c'è chi lavora, c'è chi mangia utilizzando YouTube ed è una cosa davvero positiva, ma non si può chiedere di cambiare genere perché dobbiamo fare i giochi difficili. Penso sia una critica veramente superficiale e nulla, a mio parere. Ma ci introvedo anche uno spiraglio di positività, in realtà, nel video di Blast. Io credo, credo personalmente, che sotto sotto il pensiero che abbiamo tutti è che la community Pokémon sia in realtà povera di idee. Povera di idee perché in realtà probabilmente povera di persone e quelle poche persone che ci sono e che magari stanno nei bassi fondi sotto i 1000 iscritti, sotto i 5000 iscritti, tendono a copiare spudoratamente gli YouTuber più grandi, vedasi Tonks, vedasi Lars, vedasi Federi, che più che chi più ne ha più ne metta. Il messaggio che vorrei far passare e con il quello riflettuto con Rocket25 e Frost26, così almeno avete anche i loro canali in descrizione se volete contenuti di qualità, è che la community non va avanti criticando gli altri YouTuber. O meglio, sì, si critica la community perché è importante, ma bisogna contestualizzare, bisogna farlo bene. La community va avanti con le idee, quindi Blast, se tu vuoi portare, vuoi apportare anzi, se tu vuoi apportare qualcosa di positivo alla community, e secondo me MMO sarebbe davvero positivo per la community, puoi farlo, ma fallo. Perché le idee, ragazzi, partono sempre dal basso, non partono mai dall'alto perché in alto c'è più rischio. Per idee intendo idee rivoluzionari, non è che sto dicendo che non ci sono idee in alto, ma è molto più probabile che le idee partano dal basso, e anzi è così che deve essere, perché le rivoluzioni nella storia partono sempre dai bassi fondi. Adesso tirerò in ballo un discorso che potrà forse storpiare un po' le idee a qualcuno, e mi dissocio dalle persone, sto prendendo solo questo come esempio. Penso fosse il 2016, quando Federick sponsorizzò gli Ashish Channel, portando sul suo canale una serie che loro avevano ideato, e che era fortemente innovativa all'interno della community Pokémon. E penso che gli Ashish a quell'epoca avranno avuto 5-10.000 iscritti. È così che nasce la community, è così che si migliora, sviluppando un'idea, e magari, sperando che qualcuno se ne accorga e che ti aiuti a portarla avanti, non che ti boosti a caso, mettendo il tuo link in descrizione. La community, e scusatemi qui se peccherò un pochino di superbia, la community va avanti con i diari, va avanti con le serie di Luke sui Pokémon dal peggiore al migliore che nessuno porta, va avanti quando Luke ha rivoluzionato il mondo delle top 5 portando le mega evoluzioni, va anche avanti la community con gli spacchettamenti che sono stati importati in Italia quando esplosa la moda, e che hanno reso la community Pokémon in quel periodo, perché adesso è morta, unica nel suo genere, perché nessuno fuori dall'Italia porta gli spacchettamenti in maniera così intensiva come fanno Fede e Dani, e come facevano tanti altri canali che ora non fanno più Pokémon o che hanno semplicemente chiuso. La community va avanti con le idee e con la messa in pratica delle idee, in qualsiasi modo, anche se poi queste idee non dovessero fruttare il dovuto. Perché io credo che se qualcuno ha delle belle idee e le mette in pratica, sicuramente, ma sicuramente, prima o poi arriverà qualcuno che ne rimarrà colpito, e che porterà quelle idee sul suo canale, creando dei legami nella community che poi la renderanno più forte. Quindi, se abbiamo un'idea, come PokéMMO, non aspettiamo che siano gli altri a metterla in pratica. È un atteggiamento sbagliato, perché così si delega ad Lars e Federic e compagnia bella un lavoro che in realtà aspetta noi. E in alto si fornisce un tipo di intrattenimento che si svincola, secondo me, da un altro tipo di intrattenimento che esiste, deve esistere, e può esistere bene, e deve essere fatto. Ma guardiamoci intorno, nessuno lo fa. Guardatevi in America, guardate le serie che portano in America. Ci sono 100.000 youtuber, eppure 100.000 youtuber portano la Nuzlocke, portano il competitivo, e portano i leak sui nuovi giochi. Pochissime idee innovative su questa community, ma quando hai un'idea innovativa, non puoi aspettare che siano gli altri a realizzarla. È moralmente e eticamente un discorso sbagliatissimo. Se si vuole fare un video critica contro la community Pokémon, bisogna anche attivarsi, perché criticare senza portare il contenuto, è come criticare un cuoco senza aver mai provato a cucinare. Bisogna accettare l'intrattenimento diverso da quello che vogliamo noi. Bisogna accettare che c'è una fetta di pubblico all'interno della community Pokémon, che preferisce un certo intrattenimento, che può essere quello di Lars e Fede, piuttosto che un intrattenimento più improntato sul competitive, come potrebbe essere quello di Pardini, o sulle curiosità, potrebbe essere quello di Seidoni, o sulle top, quello di Luke, o sulle creepypasta, come può essere il mio. Insomma, ci sono tante branche della community. Non si può pretendere che una branca domini e che qualcuno le porti. Se pensi di avere una bella idea che può migliorare la community, fallo. Fallo perché serve, fallo perché è necessario qualcosa di nuovo, sono necessarie ventate di aria fresca. È necessario dare l'esempio a qualcuno, Blast, e mi rivolgo a te in questo caso, che magari non trova l'ispirazione proprio perché la community in alto non lo appassiona. Ed è possibilissimo perché ci saranno tantissime persone come te che magari non sono intrattenuti da quel tipo di intrattenimento che intrattiene qualcun altro. Se vogliamo fare davvero bene alla community, mettiamo in pratica le nostre idee. Perché può darsi che il Dlarz o il fede di turno si interessino e facciano crescere il tuo canale? È possibile che tu ispiri qualcuno per far crescere qualcuno ancora più in basso. Applichiamole le idee e non andiamo a chiedere ad altri di applicarle. Perché gli altri hanno i loro cazzi, hanno il loro canale, hanno il loro tipo di intrattenimento e soprattutto hanno un loro lavoro. E non si può pretendere che youtuber che hanno fatto 200 e 300.000 iscritti utilizzando il format delle Nazloc e degli spacchettamenti vadano a portare un contenuto che in realtà non rispecchia quello che veramente portano sul canale. Spero di non essere stato troppo aggressivo in questo video e non era la mia intenzione. È semplicemente che è da tanto tempo che mi edito su queste cose e il video di Blast mi ha dato l'opportunità per andare a criticare la community da un altro punto di vista secondo me più corretto. Purtroppo, come ho accennato prima, ci sono tantissimi piccoli youtuber che tendono a copiare grafiche, format e chi più ne ha più ne mette da altri youtuber. Se vi posso consigliare ad esempio uno youtuber che secondo me porta contenuti interessanti con una bella qualità grafica vi consiglio PokéBG che vi lascio in descrizione che ha 600 iscritti eppure secondo me all'interno di quello strato potremmo dire della community è uno dei pochi che è ancora in grado secondo me di portare dei contenuti con un editing suo e una ventata di aria fresca all'interno dell'intera community italiana di Pokémon. Detto ciò penso che sia tutto spero di non aver offeso nessuno mi piacerebbe vedere dei commenti costruttivi nei commenti nei commenti costruttivi nei commenti mi piacerebbe vedere cosa ne pensate voi cosa ne pensano magari le persone che ho citato e che sono state citate a loro volta nell'altro video insomma, mi piacerebbe vedere una discussione nella community per vedere come e cosa migliorare perché oggettivamente credo che la community stia morendo e sinceramente da uno che è passato dal 2014 al 2018 e che quindi ci ha vissuto nella community avendo anche come esempio gli youtuber con cui magari adesso parlo tranquillamente mi duole la cosa e quindi scusatemi se sono stato un po' troppo aggressivo ma è davvero un argomento che mi pesa detto ciò, mi scuso ancora per l'ambientazione per le luci e per il sudore che mi sta scendendo dalla guancia spero che il video vi sia piaciuto mi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se è così, mi raccomando passate dai social e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video e noi ragazzi ci becchiamo per l'appunto in un prossimo video